Siamo tornati qui su Radio Design, io sono Nicola Palumbo, qui docente di web marketing, oggi parlerò lentamente per il vostro piacere, sono in compagnia di Paolo Bardelli, sembro un po' lento oggi ma non lo sono perché parto velocemente. Paolo, ci siamo ripartiti, oggi abbiamo in vetrina un sacco di gente perché per la prima volta noi facciamo in notturna questa puntata e potremmo andare in down, attenzione ho inserito una parola non a caso perché siamo reduci da un giorno terribile per tutti i teenager del pianeta Terra perché non sapevano più cosa fare e neanche io sostanzialmente perché a un certo punto stavo guardando in tv Albano e Romina, no, Albano era l'ecciso che dopo 15 anni si radunavano, radunavano sembra una cosa d'animale. Ti invidio molto, ti invidio moltissimo. Sì, ero con mia madre, guardavo la tv, per la prima volta dopo 15 anni l'ecciso, rincontravo Albano e ho detto devo fare una storia su Instagram. Sono tutto un tremito. Vado a fare una storia su Instagram e non mi carica la storia, dico no vabbè ma questo c'è un momento epico, devono saperlo tutti. Tra l'altro seguitemi troppo un capo su Instagram e a un certo punto non funziona la mazza, mio nipote fa, di 20 anni fa, zio non carica, mi chiamano zio, zio non carica la storia e dico no vabbè non è possibile, stiamo scherzando, usciamo fuori da questa casa, forse il problema è la rete, usciamo fuori e non carica. Dico no vabbè non è possibile, mi sto nervosendo, mi nervosisco tantissimo. Quel giorno ho lavorato come un matto tutto il giorno per fare tre video, ci ho messo 13 ore. Perché non carica, non andava. E la gente mi scriveva ma a te funziona, la gente mi scriveva ma a te funziona il business manager, ma a te funziona Facebook. Ho detto c'è un problema, c'è un problema e poi abbiamo scoperto che cosa Paolo, attenzione. Abbiamo scoperto che i nostri migliori amici ci avevano abbandonato. E non sono i cani. No, no no no, purtroppo Facebook infatti soprattutto business manager è molto meno fedele di fido e già ti tradisce appena può. E vuole un po' più soldi. Vuole solo soldi. Solo soldi e funziona solo sentendo il tintinnare della moneta, perché se no si oppone a qualsiasi commando tuoi via. Non bastano i grattini e le crocchettine. No, no, lo zio Zucca vuole soltanto money, vuole big money e ne vuole in continuazione. Però dovrebbe fare anche qualcosa per meritarseli, perché questo disservizio che c'è stato nelle ultime ore è una bella randellata per lo zio Marco. Ricordiamolo, è stato il record da quando è nato Facebook, dal 2004, un down di circa 15 ore dove tutto funzionava ad minchiam, come si dice nel gergo tecnico. Meno male che non ho usato tantissimo queste cose perché sarei impazzito talmente. Io ho dovuto e sono impazzito. Ah, benissimo, auguri. Grazie. Qual è stato il problema? Facebook era down per una nuova configurazione dei server. Si sono svegliati a Mello Park, hanno detto cambiamo le configurazioni, ma stiamo semplificando, che hanno sconvolto la vita di due miliardi di persone con la configurazione di un server. Noi semplifichiamo, però ci piace pensare che le cose siano così e comunque se poi andate a vedere le cose nel dettaglio sono più vicine a una realtà semplice, basica, aziendale, di quanto vogliamo credere. Perché questa qua è un'azienda che detiene i dati di tutto il mondo, è la nazione più potente del mondo. Ah, non fare il 5 stelle, per favore. Avrai notizie del mio avvocato, però che sia la nazione più potente del mondo, che sia un'azienda che ha un controllo smisurato dei dati altrui, è oggettivo, poi puoi dire bene o male, però fanno le stesse minchiate che fa una qualsiasi azienda. Questo è da da riflettere secondo me, perché non ci sono chissà quali reti di sicurezza. Qui sono andati down 15 ore, è roba. Stavo pensando cinicamente, e i cinici rideranno, i sensibili no, che questa mattina c'è stato un attentato in diretta a Facebook. Magari lo volevano fare ieri, però aspettiamo perché, visto che è tutto down... Black humor di prima mattina... Oppure magari succedeva ieri, proprio quando c'era il Black, e loro facevano... No, vabbè, dobbiamo rifare la strage, perché non ha visto nessuno. Sì, questi fessi si meritavano comunque, almeno, di avere questa fregatura. Andatevi a vedere la puntata bellissima di The Pills, dedicata agli attentati terroristici, che bellissima. Però, veniamo a noi, perché ci stiamo dilungando, come al solito... Strano, eh? Stranissimo. Tutto questo per dire, questi quattro minuti di introduzione, dicendo minchiate sostanzialmente, per dirvi che il mondo si sta trasferendo sempre di più da le piazze virtuali, come Facebook, Instagram, quelle, diciamo, un plein air, potremmo dire, come quando andate a fare la pipì in un campo... Di grano. E tutti potrebbero vedervi. Sì, la gente, soprattutto le generazioni XYZ, via dicendo, si stanno rintanando sempre di più nei sistemi di messaggistica. Sì. Noi tutti un pochino l'abbiamo fatto, effettivamente non si posta più, tranne me, su Facebook in modo... Tu posti per tutti, però. Esatto, io posto per 20 persone. Siamo tutti sui sistemi di messaggistica, anzi, i dati dicono che ormai sono già tre anni e che il numero di utenti che superano i sistemi di messaggistica ha superato quello dell'uso dei social network. Sì. E quindi le strategie aziendali si rivolgono sempre di più verso questo mondo, quindi dove la privacy domina, diciamo. E in questo sistema c'è, diciamo, un sistema di messaggistica. Ovviamente Whatsapp la fa da padrone, lo sapete, WeChat governa l'Asia, la Cina. E poi c'è un altro, la terra di mezzo, potremmo dire, citando gli amanti di Tolkien. Io odio Tolkien, volevo dirvelo. Facciamosi amici, dai, ancora, perché siamo già amati. Ciao a tutti, ciao gli amanti e signori di anelli. Tra l'altro in Australia il prete, quello lì che ha stuprato tre bambini, ha preso solo sei anni di carcere. Io non capisco, come mai? Questo era un nesso inutile. Che cosa? Eh, perché oggi siamo simpatici. Ah, sì, di solito invece come siamo? No, perché immaginavo sto prete che usava Whatsapp per scambiarsi i messaggi con i bambini stupati. Ma è un pensiero terribile. Magari Radown diceva. Comunque, per tornare a noi, in questa terra di mezzo c'è un sistema di messaggistica che è veramente il top, che io uso quotidianamente anche per lavoro, che si chiama Telegram. Quindi dopo finalmente sette minuti siamo riusciti a dire la parola Telegram. Ora abbiamo solo quattro minuti per dire tutto il resto, Paolo. Perfetto, allora, Telegram è una di quelle famose parole che vengono più usate e che utilizzate, perché io non so voi, ma a me capita in continuazione di avere qualcuno che ti dice Telegram è il top, devi usare Telegram, passa Telegram. C'è un problema Telegram, non ha gli stessi contatti che a Whatsapp. Però cosa ha in più? Io quando penso a Telegram e a Whatsapp penso un po' a quel binomio tra Pepsi e Coca-Cola dove c'è un leader di mercato e un competitor molto aggressivo che prova di tutto, fa ottima pubblicità, offre di tutto, però il primo posto non lo becca mai. Non lo becca mai perché una resta la Pepsi e l'altra resta la Coca-Cola. Whatsapp ha un primo posto che è inscalfibile. Certo, se inizi ad andare down per svariate ore, capisci che il competitor più accreditato può far male e in queste ore c'è stata un'ottima notizia per Telegram. Esatto. Grandi numeri. Telegram è in tutto il mondo acquisito in queste poche ore 2 milioni di utenti. È roba. In soli 15 ore e in Italia 800 mila. È roba. È un numerone, 800 mila. Sì, sul nostro mercato sì, è un numero pazzesco. Sarà stato un incremento del 10% in un giorno praticamente, perché se calcoliamo gli utenti attivi e quant'altro saranno la metà della popolazione, quindi ecco, un bel dato. Ma Telegram è, come tutti i sistemi di messaggistica, interessante per svariate ragioni. Intanto i grandi player sono già mossi con i famosi bot, che spieghiamo velocemente. Sono dei sistemi che ti permettono appunto di automatizzare la comunicazione, proprio semplificando. Sì, ma questo è, e soprattutto lì a livello aziendale per un'utenza business, questo è uno strumento che WhatsApp non ha, almeno non ha attualmente e non ce l'ha in questi termini. Avere un bot su Telegram è facile e può portare un sacco di soldi, perché il marketing, come dicevi tu, è cambiato. I social, le piazze virtuali sono state abbandonate in favore di una comunicazione più diretta. Abbandonate, stai usando parole forti. Beh, abbandonate da tutti quelli che non sono tu, almeno. No, nel senso... Stai esagerando due. È vero. Però Facebook, l'abbiamo detto più volte dai ragazzi, purtroppo viene accannato brutalmente. Sì, per un pubblico sotto i 20, 25... Bisogna muoversi su altri tipi di piattaforme, se vuoi una comunicazione integrata che colpisca tutti. C'è Instagram e ci sono i sistemi di messaggistica. Non dimentichiamo che un sistema di messaggistica ancora forte è il Messenger di Facebook, che comunque dai giovani viene ancora utilizzato. Diciamo che c'è questa fobia enorme nell'esporsi pubblicamente, con pensieri e ogni sorta di cosa. E quindi tutto, diciamo, la comunicazione avviene lì e non a caso già da almeno cinque anni i bot per i Messenger ci sono. Infatti, se facciamo una campagna su Facebook possiamo, da circa un anno e mezzo, credo non vorrei sbagliarmi, lanciare la stessa campagna anche sui messaggi precedenti. sbagliati. Telegram, come dicevi tu, è ottimo perché a meglio di tutti i sistemi di messaggistica integra i bot all'interno e funzionano alla grande. Il punto di forza di Telegram è, lo sanno i nerd, o comunque soprattutto i giovani, perché i giovani usano molto Telegram, perché tantissimi influencer, youtuber o comunque persone che parlano di contenuti digitali, ma anche non, hanno tutti un canale Telegram. Un canale Telegram. Questo è un termine che dobbiamo chiarire subito. Cosa intendiamo per canale rispetto ai gruppi che con WhatsApp sono diventati familiari a tutti. Il canale... I gruppi e non gruppi. I gruppi... Esatto. Scusate, sono troppo simpatico. Da morire. Ti adoro. No, i canali praticamente sono una comunicazione di tipo tradizionale direi, perché dall'alto in basso non è permesso all'utente di interagire, ma riceve dei contatti dall'alto. Quindi molto spesso infatti influencer, brand eccetera eccetera attivano dei canali perché anche così possono comunicare in maniera diretta con i propri utenti, ma senza avere dei feedback. Quindi tutto è molto ordinato e può essere calato dall'alto. Esatto. Ed è molto pratico per i brand. Il grande vantaggio di Telegram è intanto che WhatsApp ha un lato business, ma è ragginoso, non è mai partito, diciamoci la verità. Per il momento non è partito almeno, però qualche dubbio... Ha dei costi, non può essere gestito anche, non vorrei sbagliarmi, per iOS non c'è, c'è solo per Android. Quindi Telegram lo surclassa alla grande e in più la facilità d'uso. Telegram è veramente semplice, ha dei vantaggi incredibili. Il primo è che lavora in cloud, quindi tutto quello che noi, diciamo, tutte le comunicazioni che vengono all'interno di Telegram poi restano lì, non c'è bisogno di fare un backup sul proprio telefono, è possibile farlo, ma non è necessario, perché lo ricordiamo, Telegram si basa su una fondazione, quella del famoso Durov, che è anche un duro come essere umano, che ha creato questa fondazione senza scopo di lucro, ricordiamolo, non c'è business dietro, almeno per il momento, sono così da un bel po' di anni. Tutto è in cloud, quindi sui loro server, io lo sfrutto tantissimo proprio per fare il backup delle mie cose. C'è un vantaggio incredibile che è la possibilità di inviare i file che non vengono compressi, mentre per WhatsApp avviene puntualmente, quindi si degradano le immagini, i video e quant'altro. Perse di qualità. Su Telegram no. Altri vantaggi incredibili sono appunto l'automazione, e qui io suggerirei un po' di tool. Io vi suggerisco intanto la possibilità, sempre all'interno di Telegram, di creare tramite dei bot i canali che si agganciano a dei feed RSS. Ci sono un sacco di applicazioni, e qui suggerirei If This Then That, IFTT, che probabilmente qualcuno avrà sempre visto in rete, che è un sito fighissimo, gratuito, che ti permette di fare delle automazioni in ogni ambito. Facilmente. Esatto, per esempio, facciamo un caso classico, se abbiamo un canale Telegram, vogliamo veicolare tutti i contenuti di un blog, ad esempio, possiamo collegare il feed RSS, che è un codice che viene dato, fornito da ogni sito web, che può essere appunto anche un podcast, un canale YouTube. Prima erano gettonatissimi come tipo di tecnologia per i feed, e ora hanno ritrovato una nuova natura. Qui ci sarebbe da parlare in modo romantico dei RSS quando mi leggevo gli articoli all'inizio 2000. Quel più da spuntare. C'erano un sacco di applicazioni che si agganciavano ai RSS, leggevi gli articoli, bellissimo. L'era dei podcast poi aveva trovato un grande risalto con i feed, però ne parleremo la prossima volta, potrebbe essere carino. Bello. Nostalgico. Bello, nostalgico, piangiamo. E quindi con questo If This Then That, vi faccio un esempio mio classico, con il podcast o anche con qualsiasi tipo di contenuto, potete creare dei automatismi. Quindi gli dite agganciami l'RSS e ogni volta che c'è un nuovo contenuto, sparamelo sul canale in automatico. Il vantaggio incredibile dei canali Telegram è anche la cura maniacale che si può avere sulla formattazione, perché ha mille funzioni che Whatsapp non ha, ma neanche WeChat, cioè la possibilità di integrare commenti a ogni post, le reactions, quindi gli emoji e quant'altro, la formattazione con il grassetto, il corsivo, cioè è veramente bello. Che ha implementato anche Whatsapp, che però sta sul fronte della personalizzazione, sta inseguendo. Non c'è niente da fare. Telegram offre un ventaglio più ampio di soluzioni a portata di mano. Sì, sì. E poi altri due sistemi bellissimi che sono gratuiti, fino a un bel po' di utenti, mi sa duemila utenti, sono manychat.com, che è un chatbot, quindi un bot applicato alle chat, dove addirittura gli utenti possono interagire con questa chat. E questo manychat funziona sia per Telegram che per Messenger, e credo questi, poi anche altre chat minore, però queste sono le due principali, dove addirittura gli utenti possono abbonarsi, diciamo, ricevere in automatico, come se fosse una newsletter, i contenuti e interagire. Quindi dire, fammi ascoltare anche la puntata Y, scrivimi un messaggio, fammi vedere, per altri esempi, il menu del Ristorante X. Ok, quindi grandi vantaggi incredibili. E quindi tutto questo per dirvi che dovete abbracciare ormai, cari marketer, il mondo della messaggistica privata, perché ci sposteremo, e succede sempre di più, verso questi sistemi. E niente, direi che abbiamo detto un po' tutto. Sì, abbiamo detto un po' tutto. Poi è un concetto che non è la prima volta che lanciamo. Quindi dalla piazza, dove tutti possono farsi i fatti vostri, ci spostiamo verso una dimensione, se vogliamo, più intima, dove il brand comunica uno a uno con l'utente, quindi WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, ed è una comunicazione della quale il brand, l'azienda, ha un controllo più diretto, perché riesce a monitorare bene, senza nessuno sforzo, perché c'è grande automazione. Quindi si riduce lo sforzo, ma viene amplificato il contatto. Dopodiché non vogliamo dire con questo che tutto possa essere automatizzato e che non serve il professionista e il settore attivo. Perché serve? Perché dopo il bot chiaramente viene progettato per seguire delle finalità e dopo bisogna monitorare i suoi risultati. Quindi noi diciamo sempre ogni cosa. Ogni azione che facciamo ci vuole qualcuno che la monitori. Servono i dati, servono i numeri. Senza i numeri? Un cazzo. Esatto. Mi sei piaciuto perché hai fatto questo cappello finale volgare. Infatti, parlando di numeri, per chiudere, tutti questi sistemi, come chatbot, eccetera, non solo creano automazioni nella comunicazione, ma poi raccolgono dei dati. Esatto. Per esempio, se avete un e-commerce tramite un chatbot, potete raccogliere tutte le risposte, quindi potete avere dei dati statistici su gli utenti, cosa scelgono, cosa vogliono. Tirarli giù, lavorare su i big data, nel caso si tratta di Amazon. Se avete un vostro ristorante, non sono big data, saranno 200 risposte. Piccol data. Però sono cose che vi permettono di massimizzare i piccioli. Quindi molto interessante. Ben venga, ben venga sempre. Bene, è stata una puntata così estemporanea, è molto divertente, volgare nei primi minuti, volgare alla fine, serie nel mezzo. Quindi, perfetto. Quindi ci rappresenta... Tranne che per la serietà, perché quella... Quella manca. È stato un piacere. Un sogno, come sempre. Ciao. Abbonatevi a questo podcast. Abbonatevi a tutto. Ovunque. Comprate qualsiasi cosa. Ciao. Comprate a Rutino. Ciao a Rutino. Ciao a Rutino.